Buongiorno Popolo Rossonero, Popolo Deluandito, buon 23 dicembre, anche se per un milanista questo 23 dicembre è amaro, amarissimo, è rovinato, rovinato da una squadra senza anima, una squadra senza cuore, una squadra senza grinta, una squadra senza voglia, una squadra senza una guida, una squadra senza intelligenza, una squadra senza personalità e quindi non può essere un buon 23 dicembre. Se siete d'accordo con me mettete un like al video, iscrivetevi al canale, vi ricordo che se arriviamo alle 24 di mezzanotte di Natale a 10.000 regalerò un biglietto per Milan-Roma, anche se a questo punto spero per una bella contestazione di tutto lo stadio perché non se ne può più, quindi se volete partecipare alla contestazione iscrivetevi che così avrete la possibilità di farlo direttamente dallo stadio perché non se ne può più. Campanella per le notifiche. Allora ieri sera ho visto tutto il peggio, tutto il peggio di tutta questa nostra stagione, ho visto un arbitraggio palesemente contrario al Milan con un rigore nettissimo non dato al primo minuto, con una gestione dei cartellini ridicola, con una gestione del recupero assolutamente da presa per i fondelli, ci ha preso per i fondelli durante il recupero, non vedeva l'ora che finisse la partita, non si sa mai dove avessimo dovuto fare il terzo gol, quindi non vedeva l'ora di finirla, l'ha finita in anticipo. Ma questo è un aspetto, un aspetto che conosciamo, che purtroppo fa parte oramai di questo calcio. Ma poi c'è tutto l'altro che cancella anche quello che abbiamo detto fino adesso, perché abbiamo una squadra che gioca senza tutto quello che ho detto all'inizio, cuore, grinta, anima, professionalità, passione. L'emblema di questa partita, l'emblema, sono i due infortuni. L'infortunio di Dia, o Dia, che va a terra, noi siamo in attacco, ci fermiamo, mettiamo la palla in fallo laterale, facciamo entrare i soccorsi, Dia esce, cambio e si riparte. Dall'altra parte, sull'uno a uno, poteva mancare un infortunio muscolare? No, figuriamoci. Uno dei pochi che ancora era intatto, Tomori, va per terra, loro tranquillamente, cambio di campo, vanno avanti, tac, pum, gol. E noi a guardare. E non ci incazziamo neanche, perché loro hanno fatto bene, abbiamo fatto male noi a fermarci prima, loro hanno fatto bene andare avanti. Questo è sinonimo di cattiveria agonistica, di voglia di vincere, anche l'antisportività a volte. Noi siamo mammolette, noi siamo mammolette, noi siamo deboli, deboli mentalmente, caratterialmente, e lasciamo che loro segnino e non ci incazziamo neanche, neanche uno che abbia la cosa di dire, oh ma testa di vitello, cinque minuti fa ci siamo fermati per far soccorrere al tuo giocatore e tu adesso prendi, beh, e hanno fatto bene, e hanno fatto bene, perché questo ci meritiamo, perché questo siamo dei pappamolli rammolliti, siamo dei rammolliti. Nel secondo tempo non siamo scesi in campo, non abbiamo giocato, ma anche nel primo tempo, quando nei primi venti minuti la superiorità era lampante, era evidente, no, noi stavamo lì a gigioneggiare, gigioneggiavamo, facevamo il giro palla, facevamo il possesso palla, quando arrivava la palla Leao la palla si perdeva, quando arrivava Leao la palla era persa, quando arrivava Teo la palla era persa, quando arrivava il giro la palla era persa, e loro piano piano hanno cominciato a ripartire, fino a che sono venuti a farci il gol nel solito modo, di testa, su calcio d'angolo. Il secondo tempo non siamo neanche scesi in campo, molli, senza idee, senza gambe, senza voglia. Abbiamo preso il 2 a 1, come l'ho descritto prima, ma poi avremmo potuto prendere il 3 a 1 perché siamo usciti dal campo, perché ogni volta che arrivava la palla Leao era una palla persa, ogni volta che arrivava la palla Teo era una palla persa, ogni volta che arrivava il giro era una palla persa. Siamo usciti dal campo, col cervello, con la testa, con tutto, e non abbiamo una guida, non abbiamo una chissà guidare, chissà dare delle motivazioni a questi ragazzi probabilmente. E allora, dopo aver perso Kir nel fine del primo tempo, dopo aver perso Tomori, entra Jovic, che è l'unico in questo periodo che ha dei bagliori di intelligenza, di voglia, di classe, ed è l'unico che va vicino prima al 2 a 2, in due occasioni fa il miracolo al portiere e poi riesce a realizzare il 2 a 2 al novantesimo. E lì entra in scena Doveri, che con mille spedienti riesce a chiudere la partita prima e a farla finire prima che riuscissimo a fare il gol del 3 a 2. Immeritato, perché sarebbe stato totalmente immeritato. Ma noi questi siamo in questa stagione, questi siamo. E allora partiamo con i voti. Mike, che ha parato anche l'imparabile, però sul gol ha sbagliato. Sul gol ha sbagliato, si aspettava che Teo chiudesse la linea di tiro. Teo, buonanotte, ha lasciato partire il tiro senza neanche allungare la gamba e lui è stato colto impreparato sul primo palo. Quindi 5. Calabria, 5. Gli ho visto fare un cross nel secondo tempo, lasciamo perdere, lasciamo perdere, 5. Kier, finché è stato in campo, 5, in difficoltà, sempre in difficoltà su Dià. Tomori, Tomori aveva assegnato, era l'unico che teneva in piedi la difesa, era una partita almeno da 6,5-7. Perso anche lui per infortunio muscolare. Chissà, speriamo che questa volta non c'entri il tendine, vero preparatori del Milan? Speriamo che non c'entri il tendine anche questa volta, no? Se no chi va in campo? Io? Vando in campo io? Teo, 3. Teo oggi si prende 3, perché non c'è stato né in fase difensiva, né in fase offensiva, perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Teo, 3. Reinders e Benasser il primo tempo mi sono piaciuti, sono stati tra i migliori, hanno fatto un bel primo tempo entrambi, entrambi da 6,5, secondo tempo sono spariti. Benasser per ovvi motivi, Reinders altrettanto per ovvi motivi perché gioca sempre e Reinders sarà il prossimo che si infortunerà. Quindi 6 a tutte e due. Loftucic, 5,5. Si perde fazio sul gol, nel secondo tempo ha un'occasione per segnare, spara un tiro centrale, quando poteva tranquillamente angolarlo avrebbe fatto sicuramente gol. Tanti errori, macchinoso, 5. Pulisic, 5, sbaglia, sbaglia anche lui Cross, fa fatica, non viene cercato, non riesce a essere illuminante, 5 anche a Pulisic. Leao. Insopportabile. Non gli do neanche il voto, perché qualunque voto sarebbe troppo. Insopportabile. 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 Giroud. Giroud gli do 5 giusto per l'assist di testa a Jovic che ci consente di portare a casa un punto. Chissà cosa ce ne facciamo poi di sto punto. I subentrati, i subentrati Simic, Simic dimostra di avere più personalità di tanti che, di quelli che erano in campo, quindi un bel 6,5 per Simic. Chi è entrato poi? Chi è entrato? Ma è entrato Florenzi, ma sei, Florenzi, Florenzi, sei. Si è distinto per un litigio nel finale di partita, sei a Florenzi. Ciucuese senza voto, senza voto. Jovic 7, perché è entrato, un colpo di testa, un salvataggio del portiere e un bel gol, neanche facile da fare tra l'altro. Quindi 7 a Leao. arriviamo a chi dovrebbe allenare questa squadra, dovrebbe prepararla, dovrebbe guidarla, dovrebbe Pioli. Pioli... Pioli... Pioli out. Stavolta lo dico proprio convintamente. Pioli out perché non ne possiamo più. Pioli out perché sono tutti rotti. Pioli out perché non abbiamo grinta. Pioli out perché non abbiamo voglia. Pioli out perché i giocatori sono molli, senza senza carattere. Pioli out perché non se ne può più. Doveri, galbito doveri, interista. Ci vediamo oggi. Ciao.